Concludiamo oggi un'altra settimana dei nostri appuntamenti quotidiani di qui a Europa durante la quale abbiamo continuato a presentare i paesi che dal primo maggio scorso sono parte dell'Unione Europea, i nuovi 10 paesi dell'Unione Europea. Abbiamo parlato della Polonia e di un suo paese confinante, la Lituania. Sappiamo che la Polonia è un paese che ha una grande storia, è il maggiore dei nuovi 10 paesi dell'Unione Europea, maggiore in termini di estensione territoriale e di consistenza della popolazione. La Polonia ha avuto spesso una storia tormentata, sappiamo anche. Oltretutto è stata la Polonia la prima vittima del nazismo. Nel settembre del 1939 è stato il primo paese ad essere invaso dall'armata di Hitler. Sappiamo peraltro che la Polonia ha dato un grande contributo per la rinascita alla democrazia e alla libertà nell'est europeo. Tutti conosciamo il significato che ha avuto la nascita nel 1980 di Solidarno, questo grande movimento sindacale di ispirazione cattolica che ha contribuito a creare le condizioni per la rinascita alla democrazia e alla libertà. Certamente in periodi precedenti ed in altri paesi abbiamo avuto varie rivolte popolari che hanno tentato di rompere la cappa del comunismo. Abbiamo avuto nel 1953 la rivolta nella Germania orientale, abbiamo poi avuto nel 1956 la rivolta in Ungheria, rivolta purtroppo soffocata anche questa volta dall'armata rossa, dai carri armati dell'armata rossa. E poi nel 1968 abbiamo avuto la primavera di Praga anche soffocata dall'armata rossa. Dunque la Polonia ha avuto un ruolo importante e dobbiamo essere riconoscenti ai sacrifici che sono stati sostenuti da queste popolazioni, popolazioni polacche e degli altri paesi dell'Europa orientale che hanno contribuito a far rinascere la realtà dell'est europeo alla democrazia e alla libertà. Oggi peraltro vorrei parlare di un rapporto che riguarda le realtà locali, le realtà regionali, le realtà municipali. Sappiamo che all'inizio del processo di integrazione europea sono stati i governi nazionali a promuovere l'iniziativa di integrazione ed anche oggi sono gli stati membri, gli stati, i governi nazionali, gli stati nazionali, i soci che portano avanti il processo di integrazione europea, ma sappiamo che vi è un ruolo importante anche da parte delle regioni, da parte delle realtà subnazionali. Ma questo vale soprattutto nelle realtà dell'Europa occidentale, nei paesi che ormai da tempo erano parte delle non europee. Sappiamo che nel 1992 con il Trattato di Maastricht è stato istituito il Comitato delle Regioni, un comitato molto importante nel quale vi è la rappresentanza delle realtà regionali, provinciali, municipali, cosicché i rappresentanti eletti direttamente dal popolo in queste realtà subnazionali che sono particolarmente vicine alle esigenze della popolazione possono esprimere sul piano dell'Unione Europea realtà, proposte, iniziative, esprimere pareri che talvolta sono richiesti in maniera obbligatoria da parte delle altre istituzioni dell'Unione Europea e in altre circostanze sono pareri che vengono presentati e poi le istituzioni chiamate a decidere possono tenerne conto o meno. Ma nell'est europeo purtroppo non abbiamo un'articolazione subnazionale di carattere democratico così forte come c'è nell'Occidente europeo. Durante il periodo comunista non era possibile evidentemente avere spazio per le realtà subnazionali, vi era una politica che concentrava tutto in un potere centrale, nella capitale, nel totalitarismo insomma come tutti sappiamo, comunque dopo la rinascita della democrazia, dopo che questi paesi hanno iniziato il cammino per entrare a far parte dell'Unione Europea, vi è stata un'attività molto importante per la riorganizzazione istituzionale in modo da creare all'interno dei singoli paesi delle realtà subnazionali, crearle oppure far rinascere in termini democratici realtà che avevano una lunga tradizione, pensiamo ad esempio in Ungheria dove vi sono i comitati i quali hanno una lunghissima storia. Ecco dunque la necessità di creare le condizioni, di aiutare i paesi dell'est anche per poter dare spazio alle realtà subnazionali affinché le regioni, le province, le comunità locali in termini generali possano avere maggiore spazio. Questo sarà un segno di democrazia e di affermazione per poter crescere meglio in maniera armonica e più partecipata nell'ambito dell'Unione Europea. Grazie a tutti! Grazie a tutti!